ciao a tutti voglio e ben ritrovati allora oggi non so voglio tentare una cosa un pochino azzardata ho acquistato delle pellicole per il mio samsung galaxy s10 non sono pellicole per il vetro anteriore io il vetro anteriore non la pellicola per il vetro anteriore non l'ho mai utilizzata e non la utilizzo perché il vetro dei samsung ragazzi è spettacolare e non si non si riga però mi è venuta in mente una cosa girando un po su internet siccome io adoro le custodie le custodie fine abbastanza fine mi sono imbattuto in una pellicola posteriore per il samsung perché magari la pellicola posteriore è un po più fragile visto che la si poggia sempre dalla parte appunto posteriore e allora mi è venuto in mente di provare questa pellicola la trama è in fibra di carbonio la vedremo a breve questa pellicola posteriore per il mio samsung e anche ho acquistato un vetrino per la fotocamera perché con la pellicola posteriore la fotocamera comunque sporge e quindi andrebbe ad essere andrebbe ad impattare troppo sul sulla fotocamera e non voglio non voglio rovinarla l'impresa qual è l'impresa è far coincidere bene tutti i bordi ora provo una mia tecnica personalizzata vediamo se effettivamente riesco in questo intento troverete se poi vi interessano queste pellicole tutti i link in descrizione come sempre quindi potete acquistarle e cimentarvi pure voi in questa nuova diciamo avventura e se speriamo vada bene quindi poi manterrò il mio telefono così diciamo nudo e crudo perché ragazzi senza custodia il telefono te lo godi punto questo è andiamo a vedere allora ragazzi come vedete dietro il mio smartphone è in vetro color nero lucido e adesso andremo ad applicare la pellicola con trama in fibra di carbonio in dotazione abbiamo delle salviette la numero 1 e la numero 2 quindi utilizziamo prima questa e poi questa per pulire la superficie perché deve essere priva di di polvere in più ci è stato dato anche quest'altro adesivo che serve per togliere diciamo attaccare e staccare sullo smartphone per togliere i residui di polvere e queste due piccole guide stick che ci serviranno per allineare la pellicola in più ci hanno fornito anche questo piccolo cartoncino rigido che ci servirà poi per togliere le bolle sperando che esca bene allora innanzitutto io con un panno degli occhiali inizio a fare una prima pulizia togliamo i residui di polvere con questo stick facciamo così i residui di polvere grossolani se ne vengono con lo stick quindi passiamola su tutta la superficie è un po' macchinosa ci vuole un po' di pazienza ragazzi però forse forse dovrei riuscirci ci proviamo vediamo che succede ora passiamo con la salvietta numero 1 ecco qua piccolina passiamo tutta la superficie e poi la salvietta numero 2 eccola qua che è una salvietta asciutta che ci serve per asciugare ecco qua e ora non ci resta che prendere bene le misure ora vorrei applicare questi stick iniziando da qui per tenere ferma la nostra pellicola quindi prendiamo bene le misure anche laterali questo dovete una cosa purtroppo che bisogna perderci un po' un po' di tempo dovrei aver preso discretamente ecco qua dovrei aver preso discretamente la misura sembra di sì e ora dalla parte diciamo posteriore inferiore andiamo a levare ecco qui la carta cosa facciamo allora la solleviamo tutta e ora e ora iniziamo appoggiare delicatamente con il pollice quindi prendiamo una prima distanza una prima diciamo misura allora devo dire che è molto flessibile quindi e non fa bolle sto notando che effettivamente non fa bolle però noi adesso qui ci possiamo aiutare andiamo a scendere piano piano con questa ecco qua perfetto i laterali passiamo col dito sembra abbastanza semplice perché comunque è una pellicola ecco qua una pellicola che non rilascia bolle pensavo peggio devo dire la verità va a ricoprire quasi tutta la superficie no quasi tutta la superficie quindi passiamo bene con con le mani sui bordi perché è curvata la parte finale quindi deve aderire 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 bene passiamoci più volte ecco qua quindi diciamo che effettivamente con questo sistema ho posizionato perfettamente la mia pellicola iniziale ecco qui e da lì sono partito fino a scendere e e ammetterla ragazzi non dico no 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 abbastanza preciso dai mi faccio i complimenti da solo perché effettivamente è uscito un buon lavoro e devo fare i complimenti comunque anche alla pellicola perché è un buon materiale che non rilascia neanche bolle passiamo ragazzi questo è il risultato guardate qui il laterale guardate la trama scritta Samsung di di sfondo che si si intravede praticamente io adesso mi andrò a godere il mio telefono così che è molto più accattivante non lascia comunque di tate perché la superficie è un semi ruvido quindi c'è anche abbastanza grip ragazzi che dire sono sono soddisfatto non me l'immaginavo così questa è la prima volta che applico una pellicola posteriore e credo che lo farò anche con i prossimi i prossimi smartphone per quanto riguarda la pellicola della fotocamera anche qui c'è il kit qua abbiamo la pellicola adesso la adesso vi faccio vedere di cosa si tratta e le due salviettine la prima e la seconda da utilizzare per iniziare appunto la pulizia iniziamo con la numero 1 che è sempre umida e poi la numero 2 per asciugare troverete il link d'acquisto anche per queste per questa pellicola sempre in descrizione ecco qui è una pellicola con appunto il foro dove c'è il flash altrimenti la sera applicando il flash le foto non escono bene ci sarebbe un bagliore ora una pellicola semi rigida che andremo ad applicare ecco qua sul nostro vetro questo dovrebbe essere molto molto più semplice ecco qua non facciamo andare il flash sotto il vetrino lo lasciamo ed ecco che ecco si è agganciato diciamo si è attaccato da solo c'è una piccola bolla qui ma la facciamo sparire anche con l'aiuto della spatolina facendo una leggera pressione ed ecco qui che abbiamo applicato anche il vetro sottilissimo alla fotocamera che ci servirà da protezione per utilizzarlo senza custodia allora voglio questo è il risultato finale adesso posso andare in giro farmi il fighettino e sfoggiare questa pellicola protettiva esteticamente fantastica perché da un tocco secondo me di classe al samsung visto che comunque il vetro che hanno applicato posteriormente lasciava comunque delle impronte e questo è il risultato finale l'applicazione della pellicola è stata abbastanza semplice perché il materiale è veramente ottimo trovate tutti i link in descrizione l'unico intoppo che ho trovato e che mi lascio un po' perplesso perché ho fatto delle prove è comunque il vetrino posteriore purtroppo la lente con doppio vetro magari nelle fasi di scatto di una fotografia dove avete magari il sole di fronte può creare qualche piccolo problema o comunque il flash anche se effettivamente questa pellicolina è bucata comunque sia le foto col flash danno comunque un po' di fastidio io personalmente il flash tendo a non utilizzarlo mai preferisco avere tipo una luce ottimale per scattare le foto senza flash quindi per il momento la mantengo perché la utilizzerò parecchio così e potrò finalmente godermi il mio cellulare senza custodia ma se voi adorate comunque una custodia potete applicarla perché lo spessore è minimo quasi impercettibile e quindi la si può tranquillamente inserire nella propria custodia che avevate avevate ragazzi spero che questo piccolo mio video di curiosità più che altro vi sia piaciuto se volete farmi delle domande o volete qualche consiglio scrivetemi come sempre cercherò di rispondere a tutti quanti ricordatevi di iscrivervi al canale attivare la campanella e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti